Un vero e proprio teatro a cielo aperto, fatto di musica, maschere e colore. A Ripalimosani torna la tradizionale mascherata di carnevale, che quest'anno taglia il traguardo dei cento anni. Cento anni dalla prima mascherata, dal primo carnevale festeggiato come mascherata. Infatti abbiamo documenti del 1924 che attestano che celebrano il carnevale sotto forma di mascherata. In realtà un cenno storico molto importante è che ci sono dei documenti che attestano che già dal 1588 a Ripalimosani si parlava già di maschere, di schiamazzi. Puntamento fisso del folklore locale, che stavolta ha omaggiato con lo spettacolo dal titolo Evolution, i temi della tecnologia, del costume, i sapori locali e la storia stessa della mascherata. Non una trama unica, ma fatti diversi, legati da un solo filo conduttore, l'evoluzione. Abbiamo pensato che per festeggiare i cento anni della mascherata poteva essere interessante analizzare il tema dell'evoluzione, del cambiamento. Quindi abbiamo deciso di trattare questo argomento dell'evoluzione in vari aspetti della vita di ognuno di noi. A partire dalla mascherata, così si è aperto lo spettacolo quest'anno. E poi abbiamo analizzato altri aspetti della nostra vita che sono cambiati tantissimo, come la concezione del cibo, la tecnologia, il lavoro e anche la maternità. L'evoluzione è stata organizzata e promosso dalla bottega della mascherata, con il supporto della nuova Proloco e con il patrocinio del comune di Ripa Limosani. È una tradizione praticamente secolare, la prima è stata fatta con opare da fondi storiche ben cent'anni fa, che noi portiamo avanti con orgoglio e tramandandola per generazioni. Infatti con noi nel corteo non ci sono solo i grandi, gli storici, ma c'è anche un corteo di bambini che apre la nostra spilata. Anche quest'anno, nonostante il lutto che c'è stato qui in paese per un ragazzo di 45 anni, Luigi, abbiamo voluto comunque onorare, anche perché è stata la sua volontà, quella di onorare questo giorno questa mascherata, che come si diceva sono cent'anni e ovviamente non potevamo mancare a questo appuntamento. Il tutto viene fatto ovviamente in tono minore, per quanto ho detto poc'anzi, e devo solo ringraziare i ragazzi della bottega della mascherata e della nuova Proloco, perché con grande senso di responsabilità hanno portato avanti questo evento, nonostante tutto. Evviva la mascherata! Grazie!